Sono stati avviati ufficialmente i lavori per la realizzazione della Galleria di Grotta Minarda in provincia di Avellino sulla tratta Apice-Erpinia della nuova linea Alta Velocità-Alta Capacità-Napoli-Bari. Lo scavo è condotto tramite Aurora, la talpa meccanica allunga 100 metri con 18 motori da parte del gruppo WeBuild attraverso il consorzio Elpinia su committenza di rete ferroviaria italiana e la direzione lavori di Talfer. L'opera rientra nel progetto Cantieri Parlanti realizzato dal gruppo Ferrovie dello Stato in collaborazione con il MIT per raccontare in maniera trasparente le attività e le finalità dell'opera attraverso iniziative pubbliche, Infopoint e una pagina dedicata alle opere strategiche. Una galleria lunga due chilometri, il cui scavo sarà completato entro un semestre. Dopodiché si passerà alle ulteriori gallerie, già a partire da fine anno partirà una seconda talpa su otto totali che sono state destinate alla Napoli-Bari. Il Cantiere della Fresa lavorerà ininterrottamente con un ciclo di 24 ore, sette giorni su sette, con un avanzamento previsto di circa 16 metri al giorno. Per garantire lo scavo in continuo sono impiegate oltre 100 persone altamente specializzate, divise su quattro squadre, per un investimento globale di circa 628 milioni di euro. La nuova linea alta velocità, alta capacità Napoli-Bari è parte integrante del corridoio ferroviario europeo TNT-Scandinavia-Mediterraneo e rappresenta la prima e più avanzata opera che il Polo Infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato sta realizzando per il potenziamento della rete ferroviaria nel sud Italia.